Sapienza, quando si parte per il Polo Sud? Si parte per il Polo Sud venerdì sera a Songavazzo alle ore 20 e 30 alla sala consigliare Giamaria Benzoni e ci sarà ospite Aldo Scaiano che è il responsabile dell'associazione Circolo Polare, un'associazione molto importante alla quale è stata affidata nel 2011-2012 l'organizzazione di diversi eventi in tutta Italia legati al festeggiamento del Giubileo del grande esploratore norvegese Frithjof Nansen ma anche al raggiungimento del Polo Sud da parte del grande esploratore norvegese Ruald Amundsen che nel dicembre del 1911 per primo con il suo gruppo arrivò al Polo Sud. È la famosa storia della cosiddetta gara per il Polo come è stata poi definita in parte anche erroneamente dai mass-made, dai libri, con il famoso capitano Robert Farcol Scott che invece giunse sia al Polo Sud un mese dopo, quindi nel gennaio del 1912 ma che sulla via del ritorno perse la vita insieme ad altri 5 uomini ed è fra l'altro questa cosa, i suoi famosi diari, io sono il traduttore che li ha ripubblicati due anni fa per la casa editrice Carte Scoperte, tre anni fa. È una storia molto toccante ma è anche una storia ricca di gravi errori e anche di arroganze un po' tipiche di quel periodo di questi uomini inglesi che avevano questa mitologia dell'impero britannico, mentre la storia di Ruald Amundsen forse è più virgolette noiosa ma è perché è una storia di un grande esploratore che non lasciava nulla a caso, che aveva studiato il percorso da fare sebbene il percorso fosse sconosciuto e che riesce grazie all'utilizzo delle tecnologie giuste, gli sci, cosa che a noi può apparire banale oggi, riesce invece ad arrivare a Polo Sud tranquillamente, tant'è vero che nei suoi diari durante la via del ritorno scrive è stata una bella sciata, stiamo parlando di migliaia di chilometri fatti sugli sci e dall'altra parte invece si consumava quella che è stata definita una tragedia, la tragedia di Capitano Scott che è ripeto toccante a livello umano ma che è stata costellata di errori. Di tutte queste cose parleremo la sera di venerdì 9 marzo a Son Gavazzo con Aldo Scaiano in maniera molto tranquilla, non è una questione di creare dei campi o delle fazioni, però è anche vero che sono stati un po' fittiziamente creati probabilmente per vendere più libri o giornali ma non c'era nessuna gara, erano proprio due esploratori differenti e infatti hanno ottenuto due risultati differenti.